Vittoria sofferta per il Campobasso, domenica a Selvapiana contro il Fanalino di Coda, Nero Stellati. Gara non agevole, gli avversari hanno venduto cara la pelle. La rete su calcio di rigore di evacuo ha di fatto deciso i giochi. Tre punti necessari per proseguire il momento positivo e per avvicinare la zona playoff. Obiettivo individuato dalla società Rosso Blu. Oggi ripresa degli allenamenti dopo il giorno di riposo. Da preparare la gara contro il Francavilla prevista sabato con calcio di inizio alle 16.30. Match davvero fondamentale in ottica playoff. Francavilla ha quota 32 punti, uno in più del Campobasso e imbattuto dal 12 novembre. Praticamente quasi tre mesi senza sconfitte per la squadra giallorossa. 19 punti maturati nelle ultime nove. Dopo un avvio incerto il team abruzzese ha davvero cambiato marcia. Passando dalla zona playout a quella playoff. Due squadre che praticamente hanno svolto lo stesso percorso dal punto di vista numerico. Il Campobasso di fatti senza la penalizzazione avrebbe due punti in più del Francavilla. Per questo si attende discreto equilibrio nell'arco dei 90 minuti di gioco. Lupi comunque con sette gol fatti e zero subiti nelle ultime tre. Sicuramente un attivo che lascia ben sperare. Da segnalare inoltre che il giovane colored Augustus Carbo è stato convocato per uno stage con la rappresentativa di Serie D. Un bel riconoscimento per il ragazzo e per la società che adesso avrà le possibilità di giocarsi le chance sul campo per partecipare al torneo carnevale di Viareggio appunto con la rappresentativa della quarta serie. Intanto la questura di Chieti ha diramato le disposizioni per l'incontro di sabato. I residenti nella provincia di Campobasso potranno acquistare solo i biglietti del settore ospiti e la vendita sarà consentita sino alle ore 19 del giorno antecedente la gara. Dunque venerdì 2 febbraio per un numero massimo di 150 tagliandi. Misure prese anche per un piccolo incidente che c'è stato nella gara d'andata proprio qui a Campobasso. Ovviamente la vendita ci sarà nel capoluogo, nel punto vendita indicato dalla società. Tornando alla gara di domenica sentiamo il commento del giocatore di Ciccio, De Nero Stellati. Ricordiamo che il Campobasso è in silenzio stampa. Noi ogni domenica giochiamo sempre per vincere, poi al di là della posizione in classifica vogliamo lottare fino alla fine e ci crediamo, come abbiamo dato oggi la prova che ci siamo. E poi magari con un episodio, un calcio di rigore, la partita si mette male. Però vabbè, l'arbitro ha valutato così e niente. Quello in favore del Campobasso, su quello che cosa hai visto, poi ti chiedo anche su quello chiesto dalla tua squadra perché ha avuto parole davvero dure e severe l'allenatore di Corcia. Sì, ma di fatti noi siamo più arrabbiati per quello che non è stato concesso a noi perché quello del Campobasso l'attaccante è stato bravo a spostare palla poi c'è stato un contatto molto lieve, duro, quello che è non lo so. Però a noi è clamoroso perché è un difensore che fa una scivolata dentro l'aria che non prende palla, non prende niente, cioè prende solo il nostro centrocampista. Io non lo so perché c'era il guardialino lì a 10 metri. L'arbitro comunque era in una buona posizione, quindi non so come l'hanno fatto a fischiare. Hai chiesto spiegazioni, sono state fornite spiegazioni da qualcuno della Terna? Nessuna spiegazione, niente, zero. Chi dice che il Nero Stellati è probabilmente già retrocesso? Sbaglia, sbaglia perché noi in settimana ci alleniamo bene, diamo sempre il 100% e la domenica anche perché comunque venire qui a Campobasso e fare una partita del genere dove penso il nostro portiere non ha fatto neanche una parata, non è da tutti. Però purtroppo la classifica adesso dice questo e ci teniamo questo e lottiamo, non vogliamo niente.